Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport. Zaghi serve fare di più il Barcellona, una grande opportunità al tecnico nerazzurro prepara la sfida ai catalani, io in discussione dice ci sono abituato. E domani alla stessa ora anche Ajax-Napoli, gli azzurri affronteranno i lanceri ad Amsterdam, Spalletti a caccia della terza vittoria nel gruppo A di Champions. E mercoledì invece il Milan farà visita al Chelsea, mentre la Juventus ospiterà il Maccabi-Aifa. I mondiali di pallavolo, pocherissimo dell'Italia, 5 vittorie su 5, i Paesi Bassi liquidati 3-1, le azzurre chiudono da capolista il girone di qualificazione, prima sfida della fase 2 domani alle 17.15 contro il Brasile. Il tennis, Bolelli e Fognini ancora in corsa per le ATP Finals di Torino, sono già qualificati gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il norvegese Kasper Rudd e il greco Stefanos Zizipas. In chiusura ancora il calcio, Serie A esonerato il tecnico della Sampdoria Giampaolo, ipotesi Stancovici oltre a Ranieri e D'Aversa. È tutto, grazie per averci ascoltato in regia, Rosario Perez.